Quando i portieri sono i migliori in campo, c'è un po' da pensare, un po' come è andata la partita? Sì, anche se devo dire che all'inizio del primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni per passare in vantaggio e il secondo tempo, nonostante magari non avessimo fatto una buona gara e continuato sul tren del primo tempo, dove abbiamo subito il Modena, sullo 0-0 abbiamo avuto comunque un'occasione clamorosa dove ci siamo trovati in uno contro uno con un difensore dove non siamo stati bravi a sfruttarlo e da lì poi è chiaro che è venuto il sopravvento del Modena e devo dire che al secondo tempo hanno creato situazioni pericolose, diverse occasioni da gol e alla fine, a quattro minuti alla fine, comunque rimango rammaricato perché mancavano cinque minuti e quindi dovevamo essere più determinati a portare a casa il risultato. È sembrato che anche atleticamente il Modena con questi tre impegni vicini ha cambiato tanto e Renan Crespo avesse un pochettino più di gamba? No, perché penso che alla fine fisicamente il livello è lo stesso è chiaro che noi abbiamo dovuto fare due campi per situazioni di infortuni particolari e quindi da lì cambia un po' tutto, anche nella gestione è chiaro che obbligati a fare due campi per infortuni o magari non ti permette di fare altre scelte, però sotto l'aspetto fisico penso che sia stata una partita equilibrata. Macon è arrivato e devo dire che sta facendo benissimo, si è messo a disposizione della squadra, sta facendo un lavoro ottimo dove lotta su ogni pallone e poi ha avuto la fortuna e la bravura comunque di concretizzare già con due reti, però quello che ci preme è che lui continua a portare in campo le sue caratteristiche quindi da parte nostra c'è fiducia in lui, da parte dei suoi compagni c'è fiducia in lui quindi ci auguriamo che possa continuare in questa maniera. Poi quello che è successo a Modena non posso giudicarlo, non lo so, è chiaro che poi con un giocatore comunque si deve sentire un po' la fiducia di tutta l'ambiente. Grazie.